Ciao a tutti, io sono Al Gianluca. In questa lezione iniziamo a parlare della gestione delle date. Ma la gestione delle date non è così semplice come si può pensare inizialmente. Consideriamo già il fatto che vi sono diversi fusi orari e che in alcuni paesi è presente non solo l'ora solare ma anche l'ora legale. Comunque, detto questo, due convenzioni ci vengono certamente in aiuto. Innanzitutto, il tempo è gestito in una OTC che è chiamata anche GMT Greenwich Mean Time, che è il fuso orario di partenza da cui poi si calcolano tutti gli altri fusi orari a step di un'ora. Come seconda cosa, il tempo è trattato non in mesi, anni e giorni, ma in secondi trascorsi dall'epoca Unix, ovvero dalla mezzanotte del 1 gennaio del 1970. Questo secondo punto inizialmente potrebbe sembrare una inutile complicazione. Se infatti andiamo a scrivere in uno script, facciamo echo time, che cosa fa la funzione time? Restituisce il numero di secondi trascorsi dall'epoca Unix fino al momento in cui viene lanciato lo script. Quindi, se vado ad aggiornare, ho questo numero che certamente per noi non dice molto, anzi forse non dice niente, è un numero molto grande, ma non riusciamo a ricavare alcuna informazione da questo numero. PHP ovviamente mette a disposizione tutta una serie di funzioni e librerie che facilitano al massimo la gestione delle date, partendo appunto da questa informazione, da questo numero. Bene, detto questo, come prima cosa dobbiamo accertarci che stiamo lavorando con il fuso orario giusto, con la timezone giusta. Per farlo, andiamo a richiamare una funzione. Echo, date default, timezone get. Andiamo ad aggiornare ed abbiamo effettivamente europe rom, che è il fuso orario corretto, ma se ad esempio non era il fuso orario corretto, potevamo impostarlo con un'altra funzione e la funzione si chiama date default timezone set. Dobbiamo passare appunto una timezone, mettiamo ad esempio Australia, Sydney. Dopo la modifica della timezone, vado a richiamare di nuovo la funzione date default timezone get. Andiamo ad aggiornare e vediamo che siamo riusciti a cambiare la timezone. Quindi se proviamo ad esempio a fare un echo date e come parametro passiamo h, i, s e mettiamo pure a, dove h sta per ore, i sta per minuti, s ovviamente sta per secondi, mentre a sta per am o pm. In questo momento sono le 19.01, quindi andiamo a vedere se echo date restituisce 19.01. In realtà restituisce 0.3, 0.1 e 49, quindi sono le 3.1 minuto e 49 secondi antimeridiane. Quindi l'orario non corrisponde con l'orario italiano, perché effettivamente abbiamo cambiato timezone e abbiamo impostato Australia, Sydney. Quindi la modifica alla timezone la possiamo effettuare sia all'interno dello script, però questo lo dovremmo fare per tutti gli script della nostra applicazione, oppure lo possiamo fare andando ad agire nel file di configurazione php.ini. Per quanto riguarda la funzione date, non vi preoccupate perché la spiegherò nel dettaglio in una delle prossime lezioni. Per questa lezione introduttiva è tutto, ci vediamo nella prossima lezione. Per quanto riguarda la funzione, non vi preoccupate la funzione, non vi preoccupate la funzione, Quindi ci sono un poche, doveظbenDS le sogno, ma di aff Ebeneス ecoggi, quindi non vi preoccupate la funzione, non vi preoccupate la funzione, quindi chiaramente a me forensiede, Grazie a tutti